Si legge spesso una frase che viene citata da blogger, persone su LinkedIn, dalle società come un incitamento a partire verso obiettivi anche molto sfidanti. Una frase che non mi ha convinto come coach fin dall'inizio anche se ha comunque qualcosa di interessante. La frase è quella attribuita a Sun Tzu che dice che anche un viaggio di mille chilometri inizia con un primo passo. Dovrebbe suggerire questa frase un incoraggiamento anche se il viaggio è lungo, anche se il tuo obiettivo, il risultato che vuoi ottenere è lontano, è difficile, è sfidante, immagina che comunque anche questo viaggio inizia con una piccola azione. È certamente rassicurante, però a pensarci bene non è il primo passo quello che ci ostacola, anzi i primi passi sono tutti intorno a noi. Noi facciamo tantissimi primi passi perché sono quelli a volte più facili da fare. Iniziare una nuova dieta, iniziare ad andare in palestra, iniziare una nuova attività come hobby, oppure un nuovo interesse, iniziare a correre per andare a fare la maratona, sono tutti inizi che sono ricorrenti nella nostra vita. Cosa succede? All'inizio di una nostra, quando iniziamo una nuova attività è molto facile avere dei miglioramenti immediatamente. Se iniziamo ad andare in palestra a giocare a basket, nelle prime tre, quattro lezioni impareremo moltissimo, così come se iniziamo a studiare una lingua nuova. Nelle prime quattro, cinque, sei lezioni impareremo tantissimo, impareremo a dire delle frasi, impareremo a pronunciare, a coniugare dei verbi, per cui torneremo a casa con grossi miglioramenti. A un certo punto però questi miglioramenti richiederanno sempre più sforzi da parte nostra. Quindi è come se noi all'inizio del viaggio fossimo partiti su una strada piana e poi per arrivare a un obiettivo importante dovessimo scalare una montagna. Se l'obiettivo non è abbastanza motivante, la montagna sarà il nostro ostacolo che ci bloccherà. Ed è quindi dal punto di vista del coaching, della motivazione, dello studio delle performance a livello umano, è più interessante vedere come raggiungere l'ultimo passo, ma non il primo. Perché il primo passo è abbastanza facile. È vero che presuppone un cambiamento, ma spesso è così piccolo che siamo disposti a farlo. Invece l'ultimo passo presuppone aver scalato una montagna intera, quindi aver cambiato profondamente alcuni comportamenti, aver assunto delle competenze nuove, aver rischiato anche per raggiungere un obiettivo che forse non riusciamo neanche a vedere chiaramente dal fondo della montagna. E quindi è importante ricordarsi che questa frase è bellissima ed è rassicurante, ma che è l'ultimo passo ad essere veramente importante.